L'indecenza di questo luogo è una vergogna della città di Melfi. Le immagini che state vedendo si riferiscono alla centralissima villa comunale intitolata al generale Ascanio Sibilla, che ospita i campi da bocce. Campi che ormai non sono più tali. Atterra pericolosissimi vetri di bottiglie rotte, buste di plastica, erba incolta, spazzatura ovunque. Se si pensa che la struttura sorge a pochi metri dal municipio ed è adiacente al parco giochi per i bambini che numerosi frequentano la villa, davvero non si comprende come sia possibile tollerare un simile scempio. Eppure le due società sportive locali di bocce, che partecipano anche a campionati interregionali, da anni sollecitano l'amministrazione comunale perché si riqualifichi l'area e si ripuliscano i campi per giocare a bocce. Sentiamo. Abbiamo sollecitato molte volte l'amministrazione comunale e ci hanno sempre preso in giro, però ultimamente abbiamo fatto l'incontro con il sindaco, c'era l'ingegnere, il geometra. Dell'ufficio tecnico? Sì, dell'ufficio tecnico. C'era pure l'altra società, la SD, Città di Melfi. E ci hanno promesso che ci dovessero aggiustare un po' questi cambi qua. Da quanto tempo sono in queste condizioni? Questi sono in condizioni da 4-5 anni, che noi abbiamo sempre sollecitato, ci hanno fatto un po' rappezzare a noi, però i campionati non ne possiamo fare. Dove li disputate? I campionati noi li disputiamo a Rio Nero. Dove li allenate? Ci alleniamo, purtroppo ogni sera andiamo a Rio Nero, pure c'è consumo di benzina, rischio sulla superstrada e tutte queste cose. E pensare che la società ASD Giallo Verde ha appena vinto il campionato regionale di seconda categoria, battendo una società di potenza, guadagnandosi così le finali interregionali. I bocciofili Giuseppe Gala, Mario Atzori, Antonio Acucella, Michele Sassone e Gerardo Lombardo hanno battuto una società di Isernia, perdendo all'andata 2-1 ma vincendo 2-0 in casa. In casa si fa per dire, perché il Melfi gioca a Rio Nero, non potendo certo ospitare gli avversari in questo immondezzaio. Le partite di casa vogliamo disputarle in casa a Melfi, purtroppo però queste strutture non ci permettono di fare le partite in casa. Da quanto tempo giochi a bocce e hai cominciato con l'ASD Giallo Verde? Sì, sempre nell'ASD Giallo Verde, da quando ero proprio bambino. Come è nata questa tua passione per le bocce? Sì, mi sono appassionato perché eravamo un gruppo di amici, insieme abbiamo visto queste palle che giravano e abbiamo iniziato a giocare anche noi. E allora parliamo di questa stagione, avete battuto il potenza nella finale regionale della seconda categoria, avete battuto l'Isernia, perdendo 2-0 Lima, vincendo 2-1 qui a Rio Nero, adesso prossima partita? Adesso dobbiamo andare a Lecce, è una partita molto difficile perché loro sono molto più esperti, hanno un campo in casa. Quello che vorreste avere voi? Eh, magari sì.